Niente! Che verso che ha fatto? Che miseria! Mi ha stupito quello là, adesso basta! No, 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 no! grazie e ma queste fuori di andare a scuola dal busco ti penaivano le orecchie altro che balle vedi, figaro fanno quei recuperi forco cane spesso e volentieri lui, lei, le cose poi vengono qua il mercoledì vengono qua in settimana a allenarsi ma sono cambiati tanto davvero dopo sbagliano la cazzata uno ha messo dopo sbagliano la cazzata ma però vanno figaro questa era tronco, scendi è giusto è giusto, è giusto è giusto, è giusto è giusto è giusto è giusto ah, che c'era questo qua e poi da fare il colpello e il sasso finale eh, ma tanto non c'è il giudice ah, ecco Sergio, viene a fare il giudice di qua viene a fare il giudice di qua che andiamo io e lui adesso appena finisce qui ah, finisce qui ah, bomba allora fa c'è stato che pollo tanto sotto e poi arriva fuori lungo tu gli hai dato il colpo sotto hai rallentato e poi sei andato ancora sei andato ancora ti porta via quel pochino non esci però però figaro ma hai subito la zona eh, sì però avete migliorato no, tanto adesso ha finito lui ma avete migliorato l'ira di Dio eh l'ora di Dio l'ora di Dio l'ora di Dio l'ora di Dio